Qui è stato quindi vaccinarsi e ammalarsi comunque o può contare altri pure in assenza di sintomi? Sì, insomma c'è un rischio molto più basso di ammalarsi perché il vaccino protegge. Può infettarsi e magari non se ne accorge. Io ho un osservatorio privilegiato perché nella città di Torino ovviamente abbiamo tutti i dipendenti che sono stati seguiti dall'inizio dell'epidemia e abbiamo il numero di infezioni, il numero oggi di vaccinati e quindi possiamo vedere che cosa succede. Ricordiamoci che i dipendenti di un'azienda sanitaria vengono sottoposti a tampone mediamente ogni due settimane. Questo indipendentemente dallo stato vaccinale o meno. Per cui cosa vediamo? Vediamo che c'è un certo numero di infezioni intorno all'1,5%, sono quasi tutte asintomatiche e la possibilità che queste infezioni comportino un contagio per altri sembra essere molto più basso rispetto a quella che è l'infezione spontanea contratta da uno non vaccinato. Questo ci dice che evidentemente le precauzioni comportamentali devono rimanere, però che comunque il rischio anche di contagio per altri si è di molto ridotto. La protezione che il vaccino dà contro forme gravi di malattia sappiamo non è comunque al 100%. Viaggia a valori intorno da 82% di AstraZeneca a 94% di Pfizer e Moderna e su valori intermedi si attesta Johnson & Johnson. Quindi sappiamo che qualcuno può purtroppo scappare a questa regola e per cui dobbiamo in questa fase mantenere un'elevata vigilanza. Mi auguro che fra un paio di mesi con una copertura molto più generosa il problema vada a ridursi anche proprio per la riduzione della circolazione del virus in generale.